Ok ragazzi, nuovo video, oggi voglio parlare di frutta, è un video che mi avete chiesto in tanti perché vi ho già anticipato che nel fare questo video ci sarebbero stati dei ripensamenti rispetto alle mie posizioni passate. Io in passato ho sempre avuto una posizione non contro la frutta in generale ma nel caso dello sportivo, nel caso del bodybuilder in particolare, verso una riduzione della frutta. Qual era il motivo principale? Il motivo principale era la presenza di fruttosio. Il fruttosio è un saccaride abbastanza particolare perché anche se ha un indice glicemico basso, quindi non ci porta questo carico glicemico tipico del glucosio, che peraltro noi bodybuilder neanche ci interessa troppo perché un bravo atleta non teme mai picchi insulinici come dice il buon Alberto Prevedi, il fruttosio ha una via metabolica per il grasso molto più breve. Quindi sostanzialmente la mia posizione è sempre stata quella di cercare di sfruttare il più possibile i glucosio sui polimeri perché il gioco per il bodybuilder è quello di svuotare le riserve di glicogeno muscolare e riempirle successivamente. Per riempirle dobbiamo sfruttare il glucosio che va ad utilizzare il GLUT4 come recettori e quindi va direttamente nel tessuto muscolare. Quindi puntare sul glucosio sui polimeri è sempre stata dal mio punto di vista la soluzione migliore. Ecco in qualche modo il mio ripensamento o meglio il mio rivedere una certa importanza per la frutta è stato dettato da alcuni in qualche modo ragionamenti. Il primo ragionamento è stato quello della presenza dei micro elementi all'interno della frutta. La frutta è in generale un alimento veramente molto molto denso. Molto denso nutrizionalmente è qualcosa che sappiamo, minerali, di vitamine, di elementi antiossidanti, di elementi antiinfiammatori, diversi chelanti, che permette di avere un effetto benefico sul corpo. E sapete quanto il discorso alla base di tutto quello che dico riguardo all'alimentazione è proprio cercare di alleviare il più possibile, coccolare il più possibile il corpo. Quindi il punto di base è che io ho sempre, bene o male, visto che i moderni metodi di cultura tendevano a ridurre questa presenza di questi elementi e tutto. Ed è vero. Però non è così tanto vero quanto pensavo. In realtà realmente c'è una buona presenza di questi micro elementi, quindi vale la pena puntare nella scelta dell'alimentazione, vale la pena puntare anche sulla frutta, di inserirla. Questo non vuol dire di non assumere multivitaminici o vitamine a parte, anzi dovrebbero essere sempre presenti. Però anche là abbiamo una competizione tra le diverse vitamine da un punto di vista di assorbimento, tra i diversi minerali. Si pensi allo zinco che riduce l'assorbimento di rame. Quindi molti casi di anemia per carenza di rame in realtà sono dovuti a una supplementazione di zinco, non è raro vederli. Quindi anche là avere più input nel corso della giornata di assunzione di micro alimenti è assolutamente importante. Oltre a questo la frutta è molto densa di acqua, quindi stimola anche la sazietà e permette un'idratazione. È molto ricca di potassio a scapito del sodio, quindi nella regolazione del sodio e potassio ci dà un vantaggio in funzione, a beneficio del potassio per l'appunto, che più difficilmente viene preso rispetto al sodio. E per tutto il discorso del fruttosio in realtà non ci interessa granché, perché di fatto siamo builder, siamo atleti, quindi non ci sono tanti contesti in cui la richiesta energetica non c'è. Anzi, molto spesso abbiamo un problema di eccessiva richiesta energetica rispetto all'input alimentare che possiamo dare. Quindi per tutte queste ragioni inserire la frutta può essere sicuramente una buona soluzione e si parla di inserire uno, due, tre frutti al giorno nel corso della giornata. Si pensi all'ananas per la sua presenza di bromelina, si pensi al melograno per la sua stimolazione dell'ossido nitrico, quindi nel pasto prima dell'allenamento. Insomma, tutte cose sicuramente molto interessanti. Ora, questo discorso vale sia per periodi di bulk che periodi di cut. Un po' più complesso nelle ultime fasi di bulk in cui mangiare diventa faticoso, non riusciamo a stare dietro alla nostra richiesta energetica, quindi un alimento come la frutta che contiene molte fibre e che sazia tanto può essere controproducente. Quindi in quel caso togliere la frutta e andare avanti con delle fonti un po' più plain in qualche modo e più facilmente digeribili può essere una buona occasione. Per il cut abbiamo poi un altro ragionamento, che è in realtà un punto che avevo sollevato già diverse volte, il motivo per il quale io in realtà la frutta l'ho sempre inserita in fase di cut. Ora, fase di cut, qual è il problema principale? Principalmente il catabolismo muscolare, ossia il fatto che mentre scendiamo il nostro corpo potrebbe arrivare ad utilizzare le proteine dei nostri muscoli come substrato energetico. Ora, questo problema viene in parte risolto dalle diete high fat e low carbs, o meglio le diete chetogeniche, che sono delle diete che shiftano la richiesta energetica principalmente su corpi chetonici e grassi e quindi hanno il cosiddetto protein sparing effect, ossia un effetto di conservazione del tessuto muscolare perché il corpo smette proprio di cercare glucosio e carboidrati, quindi non lo ricerca neanche dalle aminoacidi. Però sono state viste altrettanto efficaci, anzi in molti contesti più efficaci, le diete high carbs e low fat, ossia il mio deficit calorico lo vado a prendere principalmente togliendo carboidrati. Queste diete presuppongono il fatto di andare a riempire il più possibile il glicogeno muscolare, quindi nel momento in cui il corpo ha bisogno di carboidrati come substrato energetico, lo andrà ad utilizzare dal glicogeno che vado a riempire costantemente i carboidrati, do un input di allenamento, quindi cerco di dare input di conservazione del tessuto muscolare e negli altri momenti della giornata vado a utilizzare principalmente i grassi come substrato energetico e quindi logicamente il mio corpo si direzionerà nell'utilizzo dei grassi come fisiologico che sia perché sto a riposo e in questo caso li utilizzerà un po' da quelli che gli do, un po' dalle riserve adipose. Ok, molto bene, però in questo contesto sicuramente essendoci un deficit energetico ci sono dei casi e ci sono dei momenti in cui il corpo andrà a ricercare zuccheri, non li troverà e andrà a prenderli dal tessuto proteico, proprio perché è un meccanismo che avviene ed è fisiologico in situazioni di deficit energetico, soprattutto quando l'ABF è molto bassa. Ecco, in questo caso questo processo che è definito un processo di gluconeogenesi utilizza un meccanismo di feedback, ossia di regolazione, che si basa proprio sul glicogeno contenente a livello epatico, cioè meno su quello che è il muscolo, al corpo non interessa, al corpo va a misurare come in un termometro quello che è il glicogeno nel fegato e quando vede che è basso, 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 allora va a prelevare dalle proteine o da quello che riesce per creare nuovo glucosio nel momento in cui logicamente cerca, nella benzina che utilizza come fonte energetica, un po' di glucosio. Ecco, benissimo, quindi l'inserimento della frutta, che va proprio ad essere stoccata a livello epatico, permette di rallentare questo processo, quindi nel momento in cui le scorte epatiche sono, bene o male, non sature perché non lo saranno, però non sono del tutto vuote, allora il meccanismo di gluconeogenesi sarà fortemente rallentato, il corpo sarà più incentivato ad utilizzare i grassi. Ovviamente quello che vi sto dicendo, di nuovo, non è confermato dalla letteratura, è semplicemente una supposizione, se vogliamo vederla così, che ha senso, fila da un punto di vista teorico, non fa una piega, però poi da un punto di vista pratico ce ne vuole, però nel momento in cui dobbiamo scegliere l'inserimento di alcune fonti alimentari in un periodo di cut, allora perché non investire sulla frutta, è ricca di microelementi, peraltro stimola molto la sazietà, e poi magari c'ha questo presunto effetto anch'essa di protein sparing, quindi tanto vale puntarci. Ecco, per tutte queste ragioni la mia conclusione è questa, inserire due o tre frutti al giorno può essere sicuramente un'ottima idea, anzi consentivo, tranne magari nelle ultime fasi di bulk, per cui questo è appunto la situazione. Questo è tutto ragazzi, qualsiasi osservazione che può essere sicuramente interessante, scrivetela qua sotto, come sempre, qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere, e detto questo ci vediamo al prossimo video.